Mister, un Natale sicuramente amaro, ma potrebbe essere un Capodanno un po' più positivo in caso di vittoria con la Ternana? Sì, un Natale, come hai detto tu, non felice, fa parte della vita, bisogna andare avanti. Mi dispiace in modo particolare per i tifosi e anche per la mia società. Avevamo tutto a poter girare, però non siamo neanche fortunati, tra l'altro noi parliamo sempre ma dimentichiamo i giocatori importanti che sono rimasti fuori, ma al di là di questo io credo che abbiamo l'obbligo di risalire la classifica e già giovedì prossimo dobbiamo vincere la partita, non ci sono se e ma che colgo l'occasione di fargli gli auguri di Buon Natale a tutti i nostri sportivi, anche tutti gli averinesi e io spero veramente che il 2018 sia un anno nostro fortunato. Di solito il girone di ritorno io sono sempre fortunato, speriamo che mi porti ancora bene. Guarda, credimi, questo del mercato è una cosa che non ci penso minimamente, perché so benissimo che la società si sta adoperando, a di là di dire io in questo momento alleno questi, sto con questi, è ovvio che guardiamo la partita con la Ternana, dopo possiamo fare tutti il futuro, quello che vogliamo. Non è la grinta, è quel qualcosa che ognuno di noi deve dare, non so, io la so qual è ma non ve la dico. Anche un pizzico di orgoglio, di amor proprio in più. Anche tu nel tuo lavoro, se non dai qualcosa in più, è inutile che facciamo sempre il solito tran tran ultimamente, giochiamo bene, ma cosa facciamo? Niente, io voglio che noi diamo qualcosa in più, anche io può darsi. È una persona un po' ferita nei risultati, io credo che ognuno di noi deve fare il proprio lavoro e credo che il press sa benissimo che cosa... Noi, il mercato nostro è recuperare gli infortunati che abbiamo, perché i nostri infortunati, quando li avevamo, la classifica era ben diversa. Come risponde anche all'altra osservazione del Presidente che ha detto Walter è sanguigno come me, ma ultimamente lo vedo un po' abbandonato al suo destino, però deve stare tranquillo, ci siamo noi a sostenerlo. Questo lo ringrazio, no, non mi sento abbandonato. E' chiaro che quando un allenatore non vince non è felice, perché, ascoltate, qui non è una questione di tattica, qui c'è la tattica individuale, non è collettiva. Noi facciamo degli errori individuali che ci condannano, perché se noi torniamo indietro e analizziamo un attimino noi dobbiamo migliorare su questo, credo che solo su questo. Si sente un po' in discussione comunque? Discussione fa parte del nostro lavoro, io credo che la discussione, anche tutti si sentono in discussione, anche voi vi sentite in discussione. Io faccio l'allenatore, l'allenatore se non vince è un bravo ragazzo, se perde posso essere scurrile? E' un testa dei cazzo. Scusatemi la parola. E auguri. Grazie, auguri a tutti. Grazie. Grazie.